buona domenica a tutti stavo facendo una bella corsettina ma come al solito devo notare lo schifo che c'è in giro dietro a Parabiago nel parco del Rocolo tra Parabiago e Casorezzo tra i vari murales tutto quanto anche di pessimo gusto possiamo notare questa bellissima raccolta di immondizia tra i quali ci sono sedili copertoni sacchetti di robe varie veramente uno schifo dire che ci sono le discariche ci sono le ditte apposta attrazzata apposta per lo smaltimento di rifiuto dei rifiuti anche la c'è del materiale non so che cos'è questa roba qua schifezza varie anche qua oltre va bene alle cartacee comunque qua il top dei top veramente c'è anche un tubo per un aspiratore penso qualcosa del genere ma che schifo che schifo complimenti all'essere umano è il solito animale